un bello a tutti ragazzi sciocari benvenuti e bentornati ragazzi benvenuti a questo nuovissimo video oggi secondo giorno qui di ostia comics come potete vedere già dal video precedente e quindi anche oggi andiamo a fare domande ai cosplayers che stanno qua in giro perché qua ci danno un botto di cosplayers e quindi andiamo a fargli un po di domande e a chiedere perché ma c'è dove mi è venuto in mente di mettersi il cosplay che hanno indosso adesso perché non lo so andiamoglielo a chiedere ma ovviamente dopo che come al solito già lo sapete vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutto il coso che deve fare sempre dai 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 che già vedo i primi cosplay e ma gli vado a chiedere come ho detto perché sei messo sto cosplay e o a te via qua via perché sei messo quel cosplay via allora qua ci abbiamo il primo cosplay ed è lei, tu sei? Corvina Corvina ok iniziamo sto video con Corvina e a chiedeli da dove ti è venuto in mente di mettere te Corvina perché hai scelto sto cosplay? perché lei rappresenta molto il gotico io nella vita normale sono un po' gotica sei un po' gotica ma fa caldo? fa caldo che c'hai che c'hai sta a sudare è il sudore è il sudore è il sudore è il sudore da quanto tempo usi questo cosplay o è la prima volta? è la seconda volta è la seconda volta lo riporterai? sì sì dove? a Romix ci vediamo a Romix poi sta Corvina con sto mantello ma che mantello è fammi vedere fammi vedere questa è tutta roba cinese tutta roba è roba cinese solo questo cos'è cos'è solo il mantello il mantello è tutta roba cinese evviva i cinesi sono sono non sono loro sono proprio loro ti becchiamo ovunque sempre ovunque ovunque perché avete scelto di mettervi sti cosplay oggi? Cosplay estivo di due personaggi nostri ricorrenti di Sailor Moon che adoriamo di Sailor Moon che il tuo sarebbe ricordiamocelo tu sei Sailor Moon giusto? no anche no sono il principe Diamond che se la vuole fare con Sailor Moon che lei tu sei Sailor Moon? no io sono chi più sono la Lady Nera la Lady Nera la persona è bella e cattiva beh ecco infatti vedo Sailor Moon si è fatta tinta no no è la prima volta che utilizzate questi cosplay? la versione estiva si la versione normale no c'è anche una versione estiva questa è elegante estiva elegante si quella normale invece? ecco il mantello vestito di bianco sopra col corpetto e pantalone bianco li riporterete? certamente a Romics perché avete scelto di cosplay? perché vi rappresentano perché? amanti dei gattoni animati anni 90 vecchio stile siamo e quindi il vostro anime preferito e diciamoglielo tutto è Sailor Moon Sailor Moon e poi invece qual è il vostro anime preferito? scrivetelo nei commenti tu no tu non sei tu sei Kibiusa si vabbè però sempre di Sailor Moon World faccio parte ok ma a te te stanno a chiamare vai di là io me vado con Kibiusa e me ne vado ecco un'altra un'altra principessa perché qua è pieno di principessa ma sei una principessa o no? no no ecco come al solito la mia figura di merda l'ho fatta che personaggio è il tuo? sono Rukka Devata di Genshin Impact tu sei Luca? Rukka Devata ah Rukka ho capito Rukka Devata Rukka da Genshin Impact ancora dura Genshin Impact eh Genshin Impact proprio pensavo stesse singuendo invece ancora c'è stai sti in impact è Genshin Impact ma perché hai scelto sto cosplay? perché l'hai scelto? perché mi piaceva il vestito proprio ma vediamo vediamo il vestito così oh raga a voi vi piace scrivetelo nei commenti quindi ti rappresenta sto cosplay eh si mi piace molto il personaggio mi ripeto tanto anche nel personaggio quindi è un piacere ci giochi con questo personaggio o fa un po' cagare questo personaggio? non è un... questa versione non è un personaggio giocabile ma la versione giocabile eh si la uso eh però questa versione non si può giocare non ci potete giocare ragazzi è solo nella storia è solo nella... perché tu sei una principesse? no non è una... che personaggio è tu? sono una dea morta una dea morta molto molto interessante rip che personaggio siete? di Aspinotel di Aspinotel di Aspinotel tu sei? Charlie e tu sei? Lucifero me lo ricordavo diverso Lucifero versione... versione original versione Summer Lucifero Summer quando va al mare mi so che sono una bella veranza sono andato in ferie e poi lui vediamo andare in ferie senti perché avete scelto sto personaggio? la vostra ispirazione di questo personaggio? amo le paperelle ti piacciono le paperelle? tu invece? beh a me invece mi piace proprio la serie Aspinotel quindi secondo te la serie più bella che ci sia qual è? oltre a Aspinotel ovviamente ce ne sono molte dimmene una una ne devi dire non lo so Inuyasha Inuyasha invece tu la serie peggiore la più sopravvalutata ma fa proprio cagare questa serie qual è? ce ne sono tante dimmene una alla Cyberpunk diciamo che è un po' peggiore per il protagonista per altro però è fa cagare diciamolo 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 allora qua invece ci sta il coso della notte l'eroe della notte va per i night tu sei? il cavaliere oscuro il cavaliere oscuro Batman ma la cosa che noi stiamo chiedendo a tutti che io sto rompendo le palle agli altri cosplay da dove ti è venuto in mente di metterti Batman? perché c'è proprio Batman? perché io faccio beneficenza negli ospedali e nelle case famiglie quindi tendo a coprire il volto infatti nella mia pagina Instagram non ci sarà mai la maschera senza il costume senza la maschera ok è timido quindi sei un po' timido possiamo dirlo abbiamo un Batman timido che però fa del bene quindi fai realmente del bene effettivamente faccio veramente Bruce Wayne eh Nedi non è da tutti i giorni trovare un cosplay del genere da quanto tempo però usi questo cosplay? questo l'abbiamo fatto ad aprile di quest'anno ecco sono giovani questa è la versione 2.0 possiamo dire no, è la versione 1.0 è l'1.0 me coglioni se perrai Aromix diventerà proprio il cavaliere oscuro o il cavaliere ho comprato il costumo del cavaliere madonna madonna ragazzi vediamo Aromix sempre con il cavaliere oscuro quanto sei figo ragazzi scrivete qua sotto nei commenti da 1 a 10 quanto è figo diciamo la versione 1.0 quindi proprio base è l'inizio della nuova versione figurate gli altri con gli anni è l'altro più buono eeeh a te a te a te a te a te e pure a te venite azzeccatevi azzeccatevi a quanto siete fighi oggi manca oggi nel video mancava la cornuta qualcuno che è cornuto e l'abbiamo trovata nel mio video ci sono sempre i cornuti ho detto oggi ci sarà qualche cornuto ta da ecco la cornuta allora raga perchè avete scelto si cosplay ovviamente perchè sono meravigliosi e vanno di moda oh tu invece io perchè mi sedice molto il personaggio e perchè sei anche ciecata non ce vede non ce vede niente tu invece perchè hai fatto sto cosplay eh perchè non c'ero nient'altro e poi mi mandavo t'hanno costretto loro t'hanno costretto io eeeh tira più un pelo no un'altra cosa un'altra cosa da quanto tempo usate questi cosplay ehm questo mese se avete per lavoro è il primo è l'1.0 quindi esatto dai dai tu vince anch'io pure io da aprile da aprile quindi alle prime versioni esatto dai 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 quindi raga votate nei commenti che voto gli date a loro ragazzi è la prima versione però sono fighi e già che è già che connuta e tanta roba ce l'hai pure la coda madame non diciamo non diciamo come è attaccata questa coda eccole qua eccole qua quanto siete fiche possiamo dirlo oh perchè avete scelto questi cosplay chi apri apri arrivo perchè faceva fresco vero perchè tu ma tu sei io sono ignorantone come già lo sapete che personaggio è il vostro allora io sono parparascia io sono ghost quartz io sei che nobuni non ho capito il cazzo però voi se conoscete da dove vengono scrivetelo nei commenti fa caldo o no sì anche voi che state con la camicia semore tantissimo ma quindi la mia cosa la mia domanda è da dove vi è venuto in mente di usare questi cosplay oggi perchè li state scegliere l'avete scelto per non squagliarvi per non squagliarvi lo riporterete prima o poi questi cosplay sì dove lo possiamo dire lo diciamo ma non li farò quindi ragazzi come avete visto ce ne stanno un botto dei cosplay ce ne stanno ancora tanti altri ma ce li teniamo per le altre interviste che andremo a fare e vedrete nei prossimi video ragazzi noi ci vediamo sempre qui a Ostia Comics mi raccomando votate nei commenti che voto date ai cosplay che ho intervistato e che avete visto da 1 a 10 mi raccomando siate belli stronzi come a me quindi ci vediamo al prossimo video mi raccomando iscrivetevi al canale sugari